Giornate di passione per chi viaggia in treno. Nella mattina di oggi, un po' su tutte le linee del nord Lombardia, i disagi sono stati molto pesanti a causa del maltempo, segnalati ritardi e in alcuni casi la soppressione di corse. Come se non bastasse a far perdere la poca pazienza rimasti ai viaggiatori, è stato proclamato uno sciopero, indetto dal sindacato Cube Trasporti. L'agitazione sarà dalle 3 di notte di giovedì 13 luglio alle 2 sempre di notte di venerdì 14. Trenord fa quindi sapere che i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni o cancellazioni. In mancanza dei convogli del servizio aeroportuale saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Saranno in vigore, specifica ancora Trenord, le fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. Maggiori dettagli saranno disponibili in diretta sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione in tempo reale tramite l'app della Società di Trasporti Ferroviari.